massimo questo tuo libro può essere considerato un bagaglio carico di effetti personali beh questo libro è un effetto personale nel vero senso della parola primo perché scritto in maniera autobiografica quindi c'è un io narrante anzi c'è un io narrato a dire la verità è un effetto personale perché dentro questo libro c'è tutta quella che in potenza la storia che segue da quel libro è nata la storia di CCCP da quel viaggio e poi CSI e poi siamo qua oggi a Matera è tutta una conseguenza di quell'incontro e di quel viaggio in quella città è un bagaglio che mi porto appresso da allora sono passati 37 anni e credo che quello che ho imparato in quel viaggio in quella berlino sia ancora alla base del mio muovermi artisticamente una parola che non mi piace ma insomma finché non ne troviamo un altro usiamo questa le istruzioni di quella berlino sono quelle che hanno fondato la nostra maniera di approcciarci alla musica e poi anche alla scrittura e quindi decisamente come se avessi questa valigia con me da sempre ogni tanto mi capita di guardare dentro quando ho bisogno di capire come andare avanti no senza confondermi senza perdere quel filo che se guardi indietro riesco a riconoscere in maniera abbastanza nitida sì in effetti quello che colpisce è che c'è proprio una dovizia di particolari un viaggio dell 81 1981 sono passati tantissimi anni però è come se fosse un viaggio fatto due giorni fa praticamente beh ci sono delle cose che ti rimangono in mente in maniera particolare quelle che contano poi delle volte quando tu afferri un pensiero poi scopri che dietro c'è in un altro un altro un altro c'è una catena che è nascosta dentro la nostra testa e devi solo un po come in un computer capire dove l'avevi nascosta ci sono delle frasi che saltano fuori da sole che si portano dietro un mondo e poi dietro quel mondo c'è in un altro poi altri ripetuti viaggi berlino mi hanno mi sono serviti per rinfrescare il nome di una via l'insegno di un negozio un angolo di una strada tanti dettagli no ma non è così difficile ricordare è un esercizio anche questa dicevi prima che di questa berlino non è rimasto nulla nel senso che non c'è più cosa è rimasto però nelle quindi è di intangibile diciamo così nel in chi ha potuto vivere quell'atmosfera beh diciamo che la straordinarietà della città era ovviamente legata alle sue vicende storiche era nell'81 una buona parte di berlino era ancora bombardata era ancora un cumulo di macerie inspiegabile per qualunque città europea no a 30 e rotti anni dalla 35 anni dalla fine della guerra è impossibile tra una città europea con delle piazze completamente vuote edifici ancora sventrati e poi c'era il muro naturalmente che ti metteva in una posizione ribaltava completamente l'idea della città non capivi più chi era il contenuto di questo muro chi era il contenitore chi chi erano gli oppressi chi erano i liberi chi viveva nella parte circondato dal muro era libero insomma un romanzo di formazione anche se poi è tutto vero cioè sostanzialmente una storia completamente autobiografica quindi però sa di romanzo di formazione beh sì perché il protagonista che mi trova essere io poi di fatto compie uno scatto non superi una soglia iniziatica come nei veri romanzi di formazione costituita da questo quartiere di macerie detriti e sterpaglie in pieno centro in cui non capisci dove sono vengo da una piccola città emiliana arrivo in una delle capitali europee e sono sostanzialmente in un'aperta campagna distrutta quindi una soglia da superare poi pian piano la consapevolezza che entri in un mondo storico molto più espressi in maniera molto più evidente che non nelle nostre città e quindi quando termina il viaggio non sei quello che è partito sei un'altra persona anche se il viaggio poi è di breve durata magari un paio di mesi ti riconsegna al tuo mondo diverso più consapevole più anche più forte questo però è un viaggio perché poi nella tua vita di viaggi ce ne sono stati tanti insomma è una costante questa di dover doversi spostare per capire anche un po le dinamiche che fanno muovere il mondo ma guarda adesso siamo in un periodo in cui c'è molta confusione rispetto a questo non ci sembra io non quando ero ragazzo non avrei mai potuto guardare il mondo in un telefono cercare su google chrome su google earth come era quel pezzetto di mongolia o magari mater o chissà dove mi accontentavo di sognare su degli atlanti su delle carte geografiche luogo altamente evocativo ti basta leggere dei nomi e scatta subito immaginazione è meravigliosa per cui sembra tutto così facilmente raggiungibile io credo che il viaggio invece sia fatica non solo fisica ma anche mentale fatica di adattarsi fatica di di trovarle coordinate e in fin dei conti quello che mi affascina di più del viaggio è la possibilità di essere viaggiata mia volta essere oggetto del viaggio quindi non non tanto conoscere una popolazione un popolo una cultura diversa questo va da sé va benissimo però è vedere come questo si riflette in me che cosa che cosa mi ridà di me che cosa va a scoprire da questo punto di vista berlino mi ha regalato l'idea della storia la mongolia mi ha regalato l'idea della vita della condizione umana nel vero senso della parola un po per la prima volta ho capito come potevano vivere secoli fa i nostri antenati che vengono tutti dalla terra i miei erano vivevano un paesino di montagna facevano i pastori abitudini decisamente diverse dai mongoli erano stanziali anche se si trasferivano con le pecore però si vive così si viveva così con gli animali con il clima la stagione dipende quello non sai mai il giorno dopo come sarà e quindi tornare a casa con questa trasformazione nella tua testa e questo è il motivo del viaggio per me un viaggio è fatto anche di compagni di viaggio nel libro ce ne sono tanti conosciuti lì sul sul posto a berlino in mongolia c'è stato giovanni lindo ferretti che praticamente è stato tuo compagno in tutte le avventure musicali fino fino a un certo punto ci sono ancora questi compagni di viaggio beh uno ce l'ho qua al polso mi accompagna da una trentina ad altri no di più forse della fine di cccp continua a perderlo continua a ritrovarlo quando lo perdo mi chiama e appare miracolosamente e quindi se non altro qualcosa mi è rimasto queste cuoio autentico cccp i compagni di viaggio poi si rinnovano sono importantissimi un viaggio con i compagni di viaggio sbagliati è terribile è una tortura altrimenti diventa una grandissima gioia tra i compagni di viaggio metto anche il mezzo di trasporto perché mi è capitato di tornare in mongolia due anni fa e di rifiutare con con molta cognizione un viaggio su un fuoristrada ad esempio perché costruisce un mondo chiuso attorno che non ha non ha contatti se è un piccolo oggetto estraneo il paesaggio se invece con lo stesso viaggio esattamente con lo stesso percorso tu lo fai su un camioncino wav sovietico allora tu sei parte integrante del paesaggio ma la musica è un viaggio cioè nel senso è è possibile considerarla un viaggio in continua evoluzione una serie di nuove scoperte che che non hanno mai un punto d'arrivo ma dipende anche che musica fai perché se fai delle canzoni che parlano sempre continuamente del tuo ombelico del tua nuova fidanzata o di come lei ti ha lasciato e di quanto tu soffri alla fine credo che sia un viaggio molto claustrofobico questo rispettabile credo che ognuno di noi abbia diritto a soffrire nel migliore dei modi però non ti consegna al mondo ci sono musiche che quando tu metti sul piatto o nel chiavetto dove le vuoi ascoltare di colpo ti proiettano ti aprono ti schiudono dei mondi davanti che sono le musiche in cui mi riconosco di più i mongoli la usano abitualmente loro cantano il paesaggio sono capaci di cantare una montagna non di descriverla ma di raccontarla cantando c'è un una dedica all'inizio di questo libro ai giovani pensosi circondati da occhiali mi ricordo siamo noi due ce ne sono ancora di questi giovani beh i giovani pensosi non mancheranno mai e sono forse la categoria di persone che preferisco quella con cui mi trovo molto più volentieri con quelli poco pensosi che sono così diversi da me però mi rendo conto che la figura del giovane pensoso si riproduce nei secoli a noi è capitato di di avere gli occhiali probabilmente nuove generazioni non ce li hanno più però immagino queste figure occhialuta pensosa studiante che alla quale libero dedicato perché sono poi le persone che alla fine sono capaci di avere uno sguardo lucido sul mondo secondo me nel loro non essere così esposti magari fisicamente o in maniera così fresca no e quindi lode ai giovani pensosi grazie grazie